Bene, adesso un passaggio direi doveroso. È stato richiamato più e più volte il dottor Guidi come presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura per diversi motivi. In questo momento direi che rappresenta, legandoci a questo discorso del patrimonio storico con cui si è chiuso prima l'intervento, credo che ci sia un passaggio che possiamo cogliere. Buonasera, intanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato in questa occasione. Volevo portare un po' la nostra esperienza. L'Associazione Patriarchi della Natura in Italia, l'abbiamo chiamata così perché abbiamo anche qualche collaboratore al di fuori dell'Italia, è nata nel 2006 ma in questa associazione i soci fondatori, cioè un gruppo molto attivo che opera in questo settore da circa 30 anni. Ok, quindi l'Associazione si è costituita come detto nel 2006, non ha finalità di lucro, ci occupiamo ovviamente dei grandi alberi in generale, poi abbiamo due grandi branche, Patriarchi della Natura e Patriarchi invece del mondo più rurale, agricoltura, eccetera, quindi i cosiddetti Patriarchi da frutto. Gestiamo un archivio di circa 12.000 alberi che ci vengono poi segnalati attraverso internet da varie persone, un po' di varie fasi, quindi dagli studenti, pensionati, amici dell'ambiente in generale. Quest'archivio è su internet, potete visitare il sito appunto che è www.patriarchinatura.it, segnalare se volete degli alberi. Nel sito c'è anche una scheda che potete scaricare e la mail è info-patriarchidella-natura.it. Dunque gli alberi, è stato già detto più volte, hanno grande importanza, in particolare nell'ambiente urbano, sappiamo che l'albero è un elemento importantissimo del paesaggio, nel verde urbano, presso le ville comunali, parchi pubblici, mi viene in mente anche orti botanici, quello di Padova in particolare, che è probabilmente uno dei più storici, più vecchi del mondo, ma anche le grandi ville storiche, qui anche vicino a voi, Villa d'Este, Villa Adriana Tivoli, ma anche la Villa di Monza e tante altre. Poi ci sono invece alberi, quindi patriarchi, proprio che hanno una loro storia singola e che sono spesso legati a eventi particolari o anche personaggi del mondo della storia, come qui a Roma appunto i cipressi di Michelangelo e il cipresso di San Francesco che abbiamo in Romagna, ma ad esempio a Monte Ombraro c'è un castagno che addirittura è fatto risalire all'epoca matildica ed è in un castagneto che ha proprio un sesto di impianto che ricorda l'epoca di Matilde che imponeva appunto la coltivazione dei castagni alle varie aziende, diciamo. Poi abbiamo anche altri esempi, addirittura alcuni boschi castagnetti che sono praticamente in città, in ambito urbano, come ad esempio Pian Castagnaio. E poi per quanto riguarda le funzioni, è già stato detto prima, gli alberi hanno delle funzioni incredibili perché all'interno delle città possono addirittura mitigare le polveri, soprattutto le polveri sottili e in particolare gli alberi sempreverdi. E sono stati fatti anche degli studi e si è visto che ad esempio il leccio è una delle piante che è maggiormente in grado, anche perché di solito ha un apparato abbastanza voluminoso, di trattenere gran parte di queste polveri sottili. Poi c'è l'aspetto ovviamente estetico, l'aspetto anche antirumore, oggi si costruiscono delle barriere fonoassorbenti con materiali plastici eccetera, quando invece potremmo benissimo utilizzare le piante che sono ovviamente anche più sostenibili e importanti perché oltre a consumare la CO2 ci danno anche l'ossigeno fondamentale per la nostra vita. La nostra associazione ha realizzato poi nel tempo una serie di giardini, di campi conservativi, di questi alberi monumentali, di questi patriarchi, in particolare questo lavoro è stato fatto sulle piante da frutto perché tra l'altro alcune regioni hanno anche legiferato sul tema appunto della biodiversità e mi diceva, ho sentito prima il dottor Sisti che ha nominato una legge nazionale, quindi è in discussione, sembra che sia stata approvata, proprio dedicata alla biodiversità e quindi tutte, anche perché l'Italia è il paese che in Europa ha la maggiore biodiversità perché noi abbiamo degli ambienti estremamente diversi passando dalla Sicilia fino alle Alpi e nella nostra regione, in Emilia Romagna abbiamo fatto una rete di questi giardini dove conserviamo i gemelli di queste piante perché sapete che l'Emilia Romagna, dal punto di vista agricola, è una regione tra le più importanti dei sud d'Europa e lì abbiamo trovato i capostipiti della frutticoltura. Oggi anche la moderna frutticoltura fa riferimento ai geni delle vecchie varietà perché le vecchie varietà hanno i geni della resistenza alle avversità climatiche e parassitarie. Ecco, un altro progetto molto importante che abbiamo realizzato proprio qui, mi fa piacere che è stato nominato prima dall'architetto Scopola, del Ministero dei Beni Culturali, presso Villa dei Quintili, c'è questo giardino dei Patriarchi dell'Unità d'Italia realizzato da noi come associazione in collaborazione col Comitato della Bellezza presieduto da Vittorio Emiliani che è qui con noi e vedete questo giardino a forma dell'Italia, ha un albero per ogni regione, un albero da frutto ma l'albero più significativo, più importante. Pensate che c'è un olivo che viene dalla Sardegna che ha ben 3.000 anni, vale a dire quell'olivo era millenario quando i romani costruivano questa villa. quindi c'è un discorso di archeologia arborea ma anche archeologia dell'uomo che si lega molto bene. Poi abbiamo avuto un'altra grande opportunità di essere presenti a Expo e questo ci ha permesso addirittura di raccogliere informazioni di alberi monumentali non solo italiani e europei ma anche al di fuori. E abbiamo esposto anche i frutti ed erano frutti che sono stati esposti dai primi di ottobre fino a fine ottobre e si sono mantenuti benissimo. Qualcuno dei visitatori addirittura ha detto uno dei pochi esempi di frutta vera, frutta fresca perché sappiamo che Expo anche per comodità molti frutti non erano freschi. Ecco, adesso faccio vedere solo alcune immagini di questi alberi, grandi alberi che sono appunto in ambito urbano, partendo dal nord verso il sud e ovviamente sono super protetti queste piante, oggetto anche di grandi attenzioni. Questo è il Tiglio di Sant'Orso che si trova da Osta proprio in una piazza, una pianta plurisecolare di grandissime dimensioni ed è anche come dire proprio un punto di riferimento anche per la città e anche per i visitatori perché c'è anche un turismo che noi chiamiamo turismo arboreo di persone che viaggiano per andare a vedere i grandi alberi ma non è solo l'obiettivo, l'unico obiettivo della visita, a questo si abbina poi il monumento, la storia, l'enogastronomia però è un modo diverso di viaggiare. Ecco, qui invece siamo nel Piemonte, abbiamo rappresentato due piante molto importanti, il platano del Parco Tesoriera e l'olmo di De Monte. L'olmo è molto particolare perché di solito i grandi olmi sono morti per via della Graffiose eccetera. Questo non solo ha resistito ma è un esempio singolare dei cosiddetti sagrati arborati, cioè questi grandi alberi posti vicino alle chiese perché servivano per ombreggiare i fedeli che uscivano da messa e sotto l'albero ovviamente si fermavano a dialogare. Quindi queste piante sono strettamente legate all'uomo, alla cultura. Qui addirittura siamo a Bordighera, un ficus enorme di grandissime dimensioni, come vedete quasi invaso dal parcheggio, dalle auto, però anche questo è oggetto di visita anche da numerosi turisti. Qui addirittura siamo a Villa d'Este dove si tengono grandi convegni importanti, siamo sul lago di Como e questo albero è stato oggetto di grandi interventi, di esperti di dendrochirurgia perché aveva dei grossi problemi e quindi è una pianta a cui tengono moltissimo. Questo invece è un gelso, sul gelso è significativo perché il gelso rappresenta anche come dire il passato, la bachicoltura, quindi la tradizione agricola, rurale e spesso questi alberi oggi li troviamo in città ma quello che un tempo era campagna, qui addirittura c'erano filari. Qui siamo a Cassano d'Adda ed è uno dei gelsi più grandi e più vecchi della Lombardia perché anche in Lombardia il gelso era molto diffuso per l'allevamento del bacco da seta. Qui addirittura siamo in presenza di una pianta da primato mondiale perché molto probabilmente è la vite più grande, non dico più vecchia, ma più grande del mondo nonostante sia datata a 400 anni dall'Istituto di Lineburg, quindi un istituto di ricerca affidabile. Questa vite costituisce un pergolato di 300 metri quadri all'interno di un castello e il proprietario produce ogni anno 200 bottiglie numerate che vanno nel mondo, sono bottiglie per collezionisti. Qui invece siamo in Veneto, Belluno, una soffora japonica, classica pianta da giardino. Qui invece siamo in Romagna, in particolare il Cipresso di Verucchio. Questo è chiaro che è un elemento storico estremamente importante, addirittura sono stati fatti alcuni passaggi sulla RAI perché sembra che sia stato piantato effettivamente da San Francesco. Misura oltre 6 metri di circonferenza ed è fatto risalire proprio al periodo in cui San Francesco veniva dalla Verna e è sceso. Vicino ci sono anche le fonti di San Francesco, c'è tutta una documentazione anche storica. Il Platano che vedete invece a destra è Galla Placidia, quindi siamo Ravenna, città patrimonio dell'UNESCO, con i mosaici, eccetera. Qui invece siamo da voi, siamo sul Palatino e almeno per quello che conosciamo noi come associazione è l'albero di Giuda più grande d'Italia. È enorme, ha un tronco, ovviamente non è un tronco conico unico, però è molto molto grande e quando è in fioritura è fantastico perché fa prima i fiori e poi le foglie e ovviamente è in un luogo fantastico perché siamo sul Palatino, uno dei colli più belli di Roma. Qui siamo in Campania, a Vellino, il Tiglio di Summonte. Spesso i grandi alberi erano proprio dei riferimenti anche per il, non solo per i cittadini, addirittura il Consiglio Comunale si teneva nella piazza sotto l'Olmo. Poi ci sono gli alberi storici perché a seconda dei vari periodi storici venivano piantate determinate piante. Qui siamo, l'aspetto più religioso, il leccio di Vico del Gargano verso la chiesa di San Francesco. Anche questo è un leccio di grandi dimensioni ed è oggetto di visita anche proprio dai turisti che dal Gargano vanno all'interno, dalle spiagge per vedere ovviamente sia il paese di Vico del Gargano e anche di questa enorme pianta. Qui invece siamo Olmo di San Lorenzo a Reggio Calabria, in Calabria e fa parte appunto di quegli Olmi storici che erano messi a dimora nelle piazze sotto le quali si riunivano i cittadini in varie occasioni. E questo invece era uno degli Olmi più grandi d'Italia come vedete, addirittura venivano fatte le cartoline anni fa. Ci sono collezionisti e hanno prezzi non indifferenti. Questa è una cartolina dei primi del Novecento e all'ombra di questo Olmo ci stavano quasi cento persone. E veniva chiamato infatti l'Olmo Bello. A Senigallia siamo nelle Marche. Ecco, noi molte di queste piante che vediamo che sono a rischio perché poi col tempo chiaramente deperiscono o per malattie anche carie o stabilità che si vuotano all'interno. Le piante continuano a vivere perché il legno ovviamente è un elemento di supporto e di conduzione delle linfe. La parte vitale sappiamo che è il cambio quindi riesce a vivere anche col tronco cavo però poi c'è il problema della stabilità e in questo caso interveniamo anche riproducendo. Perché riproduciamo queste piante? Tutto per l'elemento storico e la memoria perché conserviamo una memoria. Il discorso genetico perché se un albero ha raggiunto 300, 400 o 1000 anni vuol dire che ha delle resistenze come trovare un uomo di 110 anni. Sarebbe studiato da tutti. Noi lo facciamo con le piante. Le riproduciamo, le conserviamo in un vivaio. Poi ovviamente le utilizziamo anche nell'ambito di progetti come è stato il caso di quello dei quintili. Realizziamo anche delle mostre. Abbiamo una mostra fotografica. Abbiamo una mostra di tele dipinte dove la prima tela che rimane qua sulla sinistra è quel famoso olivo che si trova a Luras che misura 13 metri di circonferenza. Io un giorno ho trovato un gruppo di signore che venivano dalla Svezia che erano venuti a vedere quest'albero. E qui in questa esposizione siamo proprio qui a Roma. Palazzo Valentini alcuni anni fa dove abbiamo esposto non solo le foto e queste tele ma anche i frutti di questi grandi albi che poi facciamo anche assaggiare perché poi memorizzando il sapore è il modo per poter salvare quella varietà. Se no rimaniamo solo a livello di museo. E io ho concluso. Grazie. Grazie. Avrei una curiosità, dottor Guidi, ma sta parlando, non può ascoltarmi. Glielo chiederò dopo. Allora, direi che dopo i grandi patriarchi non c'è legame migliore che passare ad un'associazione che si occupa di parchi e giardini d'Italia. Sofia Veroli Piazza ne fa parte. Prego. Grazie. Sono qui proprio a rappresentare APG al posto della dottoressa Campitelli che non poteva venire. Mi sentite? Io sento poco. Sare la voce. Ok. APG è nata quattro anni fa circa, nel 2011, con l'intenzione, la finalità di collegare, di raccogliere, di fare da coordinamento a denti e soggetti che in Italia si occupano di parchi e giardini. E io aggiungo anche di paesaggio perché per me parchi e giardini in Italia in particolare sono collegati al paesaggio. culturalmente, ma anche scientificamente e come nostro sistema urbano e periurbano, soprattutto delle città storiche. Dunque APG ha ora in particolare lieta di poter confermare e di continuare la sua concreta collaborazione con questo comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'Ambiente proprio per incrementare questo patrimonio di conoscenza dei parchi e giardini in Italia ed attivare azioni comuni che favoriscano il mantenimento e la valorizzazione di questo patrimonio. In poche parole, APG si impegna per la conoscenza e per la formazione e la valorizzazione, la formazione degli addetti ai lavori, come abbiamo sentito prima, e la valorizzazione del patrimonio. Direi che collaboro dall'inizio e questo coordinamento tra enti e soggetti si sta allargando veramente a macchia d'olio. assistiamo a una crescita ogni anno molto interessante per tutti gli enti e i soggetti anche privati che si collegano ad APG. APG anche, mi fa piacere citarlo, un protocollo d'intesa col Ministero dei Beni e Attività Culturali, in particolare proprio con la Direzione Generale del Paesaggio che abbiamo sentito prima. Un'altra collaborazione importante, qui gioco in casa, è con IAP, la nostra associazione di architetti del paesaggio, ed è importante questa collaborazione con IAP perché da quello che ci siamo detti e che abbiamo sentito e che confermo ovviamente con tutta la passione che mi lega a questa associazione, IAP da sempre, da quando è nata, collega le professioni che sia di filosofi, di architetti, di ingegneri, di agronomi, di agronomi sono tantissime, sono bravissime, devo dire, io ho insegnato per 30 anni a facoltà di agra di Viterbo e devo dire che gli agronomi hanno una sensibilità ovviamente particolare, anche per la storia, lo posso confermare, e per l'arte. Dunque, tutti questi soggetti, ovviamente con i tecnici, con i geometri importantissimi del nostro lavoro, direi che IAP ha questa straordinaria, ormai, il suo DNA, non saprei come chiamarlo, noi siamo così e questo lo voglio ribadire, abbiamo un pensiero unico, non ci sentiamo separati quando affrontiamo un progetto, certo, tanto Anna Letizia e io lavoriamo come professionisti, oltre che come studiosi, per la divulgazione, non ci sentiamo separati nel dover affrontare un progetto, nel senso che facciamo il progetto e poi diamo alla ditta di mettere gli alberi, oppure facciamo un progetto ambientale e chiamiamo l'architetto perché costruisca il percorsi. La nostra partenza è unica, di pensiero, ovviamente abbiamo bisogno di tutti i collaboratori, così abbiamo sentito prima l'esempio del medico, il medico può curare un organo, ma poi ha bisogno di altri colleghi, io sinceramente preferisco l'esempio del direttore d'orchestra, che conosce tutti gli orchestrali, ha la sensibilità, l'umore dei suoi orchestrali, sa anche a volte suonare uno strumento, ma ha bisogno di tutti per portare nelle nostre sale bellissime opere musicali. Il nostro collegamento con IAP e a Roma, vorrei citare, a proposito dell'importanza della conoscenza del verde urbano, uno studio sul verde urbano che è stato fatto proprio da un team di esperti con varie categorie e con una collega bravissima che si chiama Ilaria Rossidoria, proprio per il regolamento del verde urbano a Roma. Un importantissimo studio che deve essere applicato, ma poi quello che è successo purtroppo ha impedito la continuità di questo lavoro e il nostro regolamento è rimasto a metà strada. Ci auguriamo veramente che possa essere ripreso in tempi migliori. Dunque, i tempi migliori quali potrebbero essere? Per me, parlando di Roma e del Lazio, di Roma in particolare, il recupero del servizio giardini. Sono molto sincera in questo. Il servizio giardini di Roma era un ente, già alla fine dell'Ottocento e poi nel Novecento, di grande qualità, di grandissima qualità. Posso solo dire che la nascita di IAP nel 1950 a Roma, presso il Casino dell'Orologia, Villa Borghese, anche un luogo simbolo, era stata, come dire, era nata per la volontà di un gruppo di professionisti e tra i quali era Elvezio Ricci che era il direttore del servizio giardini di Roma e divenne segretario. Il direttore del servizio giardini di Roma, mi dispiace che non ci sia Massimo Di Vico Fallani che ha studiato l'argomento, era di grande qualità, sia professionale che culturale. I giardini di Roma pubblici sono stati realizzati dai direttori del servizio giardini. Non c'erano ancora gli architetti e forse anche gli agronomi collaboravano certamente, ma la sensibilità culturale, la competenza professionale, la qualità artistica, urbanistica, era proprio di questi professionisti che purtroppo poi sono finiti perché il servizio giardini è cambiato. È cambiato forse anche in un momento in cui è diventato anche appartenente al Dipartimento della tutela dell'ambiente del verde. Io mi auspico che il servizio giardini riprenda la sua storia, aveva una storia di formazione molto importante. I giardini del servizio giardini di Roma erano bravissimi, sono rimasti pochi anziani che sarebbe bene che possano passare il testimone ai più giovani. Aveva una biblioteca ricchissima a detta di Paola Lanzara, aveva il primo microscopio di Roma negli anni 40-50 che si occupava proprio di conoscere scientificamente la parte genetica delle piante perché la riproduzione era molto importante in quanto abbiamo sentito il patrimonio genetico delle piante è la nostra storia, il nostro patrimonio che deve essere salvaguardato per mantenere quello che le proprietà genetiche dell'albero fanno come identità. Tanti nostri parchi anche nel Lazio hanno delle storie straordinarie e mi sono sempre detta perché l'università non si occupa anche di questo importantissimo lavoro di ricerca. posso ancora dire una cosa che riguarda il discorso del verde ho sentito benissimo oggi tante relazioni importanti la collaborazione mi sembra la cosa più importante ma la più importante in questo momento forse è la formazione la formazione dei giardinieri abbiamo una nostra collega qui Barbara Invernizzi che sta battendosi da tanto tempo per la formazione dei giardinieri quello che io ho fondato a Viterbo nel 2000 è il corso per curatori la figura del curatori di parchi giardini ortibotanici è una figura intermedia tra il giardiniere e il direttore dei giardini ed è la persona che ho visto applicarsi hanno fondato anche un'associazione curatori in maniera egregia in tante situazioni importanti sia di verde urbano che di giardino privato di giardino storico la nostra apertura sul tema del verde proprio come AIAP e come professionisti non fa differenza tra pubblico e privato tra storico e contemporaneo tra urbano e periurbano e paesaggio e paesaggio agrario perché la relazione tra questi campi è importantissima noi non progettiamo soltanto perché da un punto di vista progettuale tecnico estetico ma io vorrei quella parola usarla meno perché è come l'albero e l'albero è bello quando sta al posto giusto il progetto buono è un progetto che è bello e piace alle persone come ho sentito stamattina riesce a realizzare la finalità per cui è stato creato il problema importante è proprio quello di rifarsi alla simbologia che lega il nostro percorso professionale il nostro percorso di paesaggisti e di professionisti e di artisti anche non penso mai a un albero come un soggetto qualunque l'albero e la pianta appartiene a un suo mondo a un suo mondo botanico a un suo mondo ambientale a un suo mondo anche storico e simbolico ed è questo pensiero inserito in un ambiente che fa sì che quel giardino quel parco quell'ambiente abbiano un valore che si trasmette alla gente il percorso simbolico lo deco tante volte anche ai miei studenti ha un grande significato come del resto un prano musicale un'opera figurativa di arte qualunque cosa noi facciamo che abbia in sé una capacità creativa di trasmettere dei messaggi è legata a questo mondo simbolico che abbiamo dentro di noi dobbiamo forse ai giovani aiutarli a ritrovare e i nostri giovani ce l'hanno tanto che amano molto la musica e questo è un segnale potrei fermarmi qui con un pensiero ho sentito parlare di verde di verde di verde lo diciamo sorrido perché questa è una cosa che non si può cambiare parliamo di verde urbano tra virgolette in corsivo perché lo dobbiamo chiamare così ma penso a una nuvola con tanti colori verdi che potrebbe essere un bellissimo intervento di un artista per un'opera d'arte dove il verde è di tanti colori di verde ma non dà il senso del soggetto organico dell'organismo vivente che è un albero un cespuglio una pianta un arbusto un rampicante una pianta tapezzante e i nomi non possiamo dirli perché sono moltissimi e quello che ho sentito stamattina mi sembra importante che l'Italia ha una biodiversità straordinaria il Lazio ha una biodiversità straordinaria ma alberi e ambiente e patrimonio e patrimonio della vegetazione e della flora hanno a che fare con il territorio il territorio l'abbiamo sentito stamattina oggi poveriggio fa parte del mondo dei geologi e che è anche una parte importantissima della nostra professione il territorio l'ambiente il paesaggio è quella triade famosa che un grande nostro maestro di filosofia Rosario Assunto ha segnalato non possiamo più parlare come di un unico elemento ambiente territorio paesaggio ma di una triade il territorio è la parte fisica l'ambiente la biologica la parte in cui noi viviamo come organismi che sia l'ambiente vegetale che sia l'ambiente umano noi diciamo l'ambiente della famiglia l'ambiente della scuola l'ambiente del lavoro l'ambiente della città l'insieme del territorio fisico più l'ambiente vitale fa il paesaggio il paesaggio è qualcosa che ha un valore storico ha un valore scientifico ha un valore umano grandissimo grazie anche a Anna Letizia Monti che ha parlato della convenzione europea del paesaggio e della qualità della vita che è la prima cosa che dobbiamo cercare nel nostro lavoro grazie